Sei in ascolto di RDA Radio 1, Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo pc, digitando www.spreaker.com slash user slash Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, Circuito Spreaker, la tua radio web. Un nuovo enesimo appuntamento con la Serie B, amici e amiche all'ascolto, ben interconnessi da Roberto De Angelis, che chiede scusa all'inizio del suo intervento per la voce, che non è proprio eccezionale, causa raffreddore, mal di gola, bronchite, c'è di tutto. Sta girando purtroppo in tutta Italia questa ondata influenzale, quindi la nostra voce e le nostre corde vocali ne risentono. Spero di essere chiaro il più possibile. Ci occupiamo di questa Serie B che è entrata nel suo periodo, io sarei dire, più positivo e più splendido, per cui stasera, 28 febbraio, diverse partite dovranno essere eseguite sulla piattaforma di Sky, perché sarà una Serie B che terrà il passo degli ascolti della Serie A, in quanto si sta facendo veramente interessante. Verona Ternano, ovvero sia come si scende dall'Olimpo della Heat Parade, nel senso che il Verona ha condotto il campionato per larghi tratti e oggi si ritrova al quarto posto, diciamo, con le sorprese che non sono più tali di Benevento, Spalla e addirittura il Frosinone che è in testa della classifica. La Ternana, beh, salvo qualche miracolo, è proprio condannata a scendere, quindi dovrà dimostrare tutto il suo valore. Già contro il Frosinone il Verona ha dimostrato di esserci, quel rigore può essere discusso, c'era, non c'era e via discorrendo, però abbiamo notato che non si è persa, l'intelagliatura di Pecchia dovrebbe esserci e dovrebbe essere presenti. Per quanto riguarda la Ternana, vi dico che stasera giocherà al Bentegodi di Verona la millesima, la partita numero mille della sua storia in Serie B, pensate un po', è un bel record. Il Verona deve risalire il più in fretta possibile, resteremo a vedere un attimo quello che sarà. Le probabili formazioni, il Verona con un 4-3-3 porterà Nicolas fra i pali, i quattro di difesa Ferrari, Bianchetti, Caracciolo e Subrahen, i tre di centrocampo Romulo, ecco chi si rivede, Romulo, Fossati, Bessa, i tre di attacco Sirigardi, Pazzini e Luppi, l'allenatore Pecchia. Per quanto riguarda la Ternana risponderà con un 4-3-3 con Aresti fra i pali, Zanon, Meccariello, Valianne e Rossi come difensori, i quattro di difesa, i tre di centrocampo, Defendi, Ledesma, pensate un po' che si rivede, Ledesma e Sissocò, i tre di attacco saranno Falletti, Avenati e Pettinari, Pettinari naturalmente che proviene da Scuola Roma, l'allenatore è Carmine Gaudieri. L'arbitro sarà Lorenzo Illuzzi di Giovinazzo, comune dell'area metropolitana di Bari, che sarà coadiuvato naturalmente dai suoi assistenti, il fischietto pugliese a 34 anni, un arbitro giovane, ne parlano tutti bene, staremo a vedere stasera che cosa accadrà, soprattutto perché dovrà dirci se il Verona è ancora in grado di risalire la china e se la Ternana può cercare qualche mezzo miracolo per tentare di non retrocedere nelle serie inferiori. Per quanto riguarda Verona-Ternana è tutto, vi do appuntamento al prossimo giro di Serie B, vi ringrazio per l'ascolto e naturalmente con Anteprima Serie B non finisce qui. Grazie a tutti!